Sono Zibaldo, l'unica app completa di tanti servizi di pagamento. Scaricami, sono gratis. Zibaldo, come me non c'è nessuno. All'ospedale Murri di Fermo nelle ultime settimane si è verificato un consistente incremento di ricoveri e di accessi in pronto soccorso che hanno indotto la direzione dell'area Vasta 4 a rivedere il piano pandemico con alcune mosse messe in campo per incrementare la disponibilità di posti letto e ricoperare personale da inserire sul versante dell'emergenza. I posti in terapia intensiva da 7 sono stati portati a 13 più due posti in appoggio temporaneo all'ex utic per un totale di 15. Sono 32 quelli di malattie infettive semi-intensiva, 22 letti in medicina covid più 7 all'ex urologia per un totale di 29. Al pronto soccorso è stata convertita la camera calda in ambiente attrezzato in modo da poter ospitare in caso di estrema necessità altri 7 posti per pazienti che necessitano di ventilazione. Sul versante del personale per questa settimana è stata disposta la sospensione dell'attività chirurgica eccetto per le emergenze per poter mettere i chirurghi ospedalieri a disposizione del pronto soccorso e delle medicine covid. Il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro dopo che nelle settimane precedenti il Murri è venuto in supporto alle aree vaste 2 e 3 ha chiesto alla regione come presidente della conferenza dei sindaci di decongestionare il nostro comio cittadino chiedendo aiuto all'area vasta del Piceno. 228 positivi quindi questo significa che il Murri, naturalmente questa crescita è stata per tutta la provincia anzi in alcune città anche in maniera più importante rispetto a Fermo, il Murri è sotto pressione, è tornato sotto pressione perché poi il Murri già riceveva alcuni pazienti dall'area vasta 2 e dall'area vasta 3 che erano state oggetto di una precedente situazione di criticità. Abbiamo interloquito oggi, insomma io sono fatto portavoce anche degli altri sindaci con il presidente chiedendo che in qualche modo alcuni pazienti venissero assistiti anche da altre aree vaste soprattutto all'area vasta 5 c'è stata una rassicurazione da questo punto di vista che noi seguiremo comunque come sindaci del territorio.